Aveva deciso di andare in Messico con la compagna perché qui in Italia la situazione iniziava ad essere problematica sia dal punto di vista professionale che sociale. Là invece era molto diverso, non esisteva la quarantena e molte persone, risultate positiva il covid, si curavano a casa con l'Ivermectina, utilizzato generalmente come farmaco antiparassitario ad ampio spettro. Nel giro di cinque giorni, poi una volta spariti i sintomi, tornavano a lavorare e Francesco Paolini di Fossombrone voleva recarsi in quel paese, una scelta che però è stata soltanto l'inizio di una vera odissea. Noi dovevamo partire a gennaio ma la mia amorosa è risultata positiva, è risultata positiva lei e io no e quindi questa cosa già è una cosa che mi puzzava un po' perché io ho fatto due seriologici tra tamponi, quindi la storiella che tu potresti averlo già incontrato il virus con me non funziona perché io sicuramente non l'ho mai avuto, quindi essendo lei positiva io negativo qualcosa non va, quindi è anche giusto dirle le cose quando non vanno. Ero talmente sicuro di questa cosa che gli ho fatto fare il seriologico dopo le cinque settimane e risultava avere 0,01 per quello che riguarda gli IgG e 0,03 per quello che riguarda gli IgM, quindi è una cosa ridicola, proprio niente. E lì è iniziato comunque l'isolamento con tutto ciò che ne consegue, compresa la quarantena delle persone e dei familiari venuti a contatto con lei, a marzo poi la coppia è riuscita a partire dopo l'esito negativo di un tampone. Per ritornare abbiamo avuto un altro problema, nel senso che dovevamo fare sempre il tampone PCR perché per tornare in Europa devi ancora fare il PCR, mentre per tutto il continente americano li hanno banditi perché non hanno una grossa tendibilità. Premetto, prima di andare a fare il tampone noi eravamo in una cittadina sulla costa pacifica e quindi dovevamo andare a città del Messico, fare una traversata, ma c'è stata un'alluvione, siamo partiti con l'infredito, eravamo tutti completamente bagnati, un viaggio di nove ore con l'aria condizionata dell'autobus e sono arrivato a città del Messico completamente bolzo, come si dice, già mi sentivo che non riuscivo a parlare, il giorno dopo avevo il tampone e mi ha pizzicato e quindi sono stato, sono risultato positivo. È stato un mal di gola dovuto a una causa che c'è stato, ho preso un sacco d'acqua, un freddo incredibile, sono arrivato che non riuscivo neanche a parlare, il giorno dopo ho fatto il tampone, ti mettono questo cotonfioc nella gola e mi è risultato positivo. Ma poi ha fatto anche ad esempio un serologico per vedere se effettivamente... Non ho fatto nulla perché poi dopo sono tornato, paradossalmente ho dovuto fare la quarantena in Italia, perché là non la devi fare, che sei tra virgolette positivo, ma positivo tra virgolette perché se non hanno ancora isolato il virus, se tu hai un mal di gola, un influenza, un raffreddore, ti risulta sempre coronavirus, anche se lì ti dice che tu sei positivo al covid. Lei conosce anche altre persone che hanno avuto questo stesso problema? Sì, conosco persone direttamente come i miei fratelli e i quali hanno anche loro rilevato che questi test non sono attendibili.